Musica Prima di iniziare con il video vi ricordo che ho creato un nuovo canale su Telegram Dove troverete ovviamente il link in descrizione da questo video Niente, il canale verrà utilizzato solamente come spam per pubblicità dei miei video e news riguardanti i modi di GTA 5 online Quindi niente, se avete Telegram e avete scaricato nel mosto cellulare vi lascio il link in descrizione Mi raccomando ragazzi entrate, dobbiamo assolutamente arrivare intorno ai 3000 membri Detto questo, nulla, io non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buon menzione! Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui, finalmente signori miei, ritornato su GTA 5 online Benvenuti e bentornati qui nel mio canale Oggi ragazzi tutorial completo dell'SP2MP Come anche appunto vi mostrerò come poter salvare i contenuti che andrete a comprare In quanto nel video postato ieri mi ero dimenticato di registrare appunto la clip dove salvavo i contenuti Però in ogni caso ho accennato nel video un piccolo passaggio Su quello che dovete fare per appunto salvare i veicoli o comunque le proprietà e i contenuti che andrete ad acquistare con questo glitch Semplicemente Questo qui mi raccomando fatelo tutti perché il glitch è veramente molto semplice Lo so che molti di voi stanno avendo problemi con il primo step Purtroppo ragazzi il primo step va a culo Se avete una connessione che in quell'esatto momento sta andando di merda Potreste avere molte probabilità appunto di azzecare il glitch Purtroppo non so neanche io spiegarvi o darvi qualche consiglio per azzecare quel primo passaggio Purtroppo ragazzi quel primo passaggio va a culo Magari per la maggior parte degli iscritti che hanno una connessione abbastanza scarsa Se in quell'esatto momento la vostra connessione sta andando di merda Probabilmente c'è una buona probabilità appunto di azzecare il glitch Se proprio non riuscite a farlo vi consiglio di essere ancora più veloci Semplicemente dicendovi che appena ritornerà la connessione e vedrete Dovrete appunto avere un occhio abbastanza veloce Che in pratica la selezione del personaggio si potrà ricliccare Allora in quel momento dovete spammare quindi premere due volte il tasto X insomma Vi ringrazio veramente di tutto il supporto che mi avete dato nel precedente video E beh per ricambiarvi come promesso eccovi qua il glitch completo Su come appunto entrare online con la modalità storia Quindi appunto come ripeto questo glitch in inglese viene chiamato SP to MP Ossia appunto avere le funzionalità o comunque i contenuti della modalità storia all'interno di GT Online Sapete che nella modalità storia si può avere il deposito di emozione forzata Il garage di Franklin eccetera eccetera In questi garage come anche nell'animozione forzata Come ho detto in quel video Se siete degli smanettoni che sanno usare il Save Editor con anche il Save Wizard Potrete esportare i vostri veicoli su GT Online moddati Quindi appunto vi fate i vostri veicoli moddati, le vostre esclusive E le potrete appunto portare appunto online Con l'utilizzo di questo glitch In ogni caso nei prossimi giorni cercherò di portarvi anche un video su questa cosa Se alcuni di voi hanno una licenza del Save Wizard che potrebbero prestarmi Gentilmente appunto scrivetemi Anche perché al momento non ho licenze Quindi se qualcuno di voi vuole prestarmi una licenza del Save Wizard Benvenga Mi contatta ad uno dei contatti che trova nella descrizione Detto questo ragazzi non la possiamo anche iniziare Ma prima volevo aprire semplicemente un piccolo dibattito sulla questione del video precedente Molte persone si sono lamentate Ah ma Krix parli troppo, non si capisce niente Io volevo semplicemente ribadire questa cosa dicendo che parlare troppo Vuol dire che uno youtuber ci tiene al proprio pubblico Non è che fa un video di due minuti, di tre minuti dove spiega il glitch E non spiega neanche che per azzeccare il primo passaggio bisogna avere una connessione No, hanno semplicemente fatto il video e l'han postato online Così io non posso lavorare ragazzi Il mio modo di fare video è questo Quindi prima spiego, do dei consigli e poi si parte con il glitch Tutte queste persone che commentano in questo modo Gentilmente si togliessero dai coglioni Lasciassero il dislike, quello che vogliono E togliessero l'iscrizione Molto molto semplice Cioè io non sono abituato ragazzi a fare le cose a metà Io esce un glitch, il glitch funziona Bene e allora spiego anche il più minimo dettaglio Per fare appunto il glitch Non me ne frega di chi dice ah parli troppo eccetera Poi un'altra cosa nel video mi hanno detto che non si capisce niente Cioè ragazzi 24 minuti di video e non si capisce niente Ma stiamo scherzando Cioè io in quel video ok che l'ho registrato in mezz'oretta quant'è Ma non potete dire che non si capisce niente Perché ho spiegato anche il più minimo dettaglio in quel video Ragazzi ma andiamo Ma dove cazzo stiamo arrivando Io vi voglio bene tutto ma Certe persone vi giuro mi danno troppo sui nervi Quando sento di dire queste cose Ok che magari posso parlare troppo Ma non potete dire che un mio video non si capisce niente Dai su per favore Detto questo ragazzi Prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando il vostro mitico pollicione in sub bomba Vediamo se riusciamo a raggiungere i 200 mi piace sotto questo glitch Se raggiungeremo 200 mi piace vi porterò un altro video inerente a questo glitch Non ci serviranno requisiti per fare questo glitch O meglio ci serviranno alcuni requisiti Ma ve li lascerò qui in questa immagine come state vedendo nel video Come anche nella descrizione Molti si sono chiesti se xlag dovesse usarlo anche l'amico No xlag dovrete usarlo solamente voi in quel momento Per appunto fare il glitch Se in quel momento appunto la vostra connessione sta andando di merda Non serve che usate xlag Ma basta semplicemente continuare a fare il passaggio Quindi insomma xlag non dico che serve obbligatoriamente Ma per chi comunque ha una fibra O comunque ha una connessione abbastanza medio alta Dovrete in quel momento farla laggare Quindi non lo so Mettete a caricare dei video su youtube Boh cercate di stressare la vostra connessione Se non volete utilizzare il programma di xlag Detto questo ragazzi possiamo subito iniziare Mi sono un po' divulgato Ma ci tenevo comunque ragazzi ad aprire una parentesi su questa cosa Perché ieri leggendo i commenti Ho dato veramente troppo sui nervi La prima cosa da fare ragazzi sarà entrare su GTA Online In una sessione solo ad invito Una volta fatto ciò Dovremo appunto entrare con il nostro personaggio nella sessione Quello che dovremo fare come primo step E questo step ragazzi è veramente molto importante Altrimenti il glitch non andrà a funzionare Dovremo praticamente aprire il menu interazione Con il tasto select o il tasto touchpad Se stiamo giocando su PS4 In ogni caso ragazzi il glitch funziona Appunto sia su PS4 che su Xbox One Una volta aperto il menu interazione Come avete visto dal video Dovrete andare sul luogo di rientro E impostare il luogo di rientro su casuale Questo luogo di rientro su casuale ragazzi È veramente molto importante Altrimenti il glitch non andrà a funzionare Una volta fatto questo Impostate il luogo di rientro Andate sulla sezione stile E andate a cambiare un accessorio o un completo Al vostro personaggio Fatto questo Semplicemente chiudete il menu interazione E aspettate il gioco in basso a destra Che andrà a salvare con l'iconcina del caricamento arancione Una volta fatto questo Dopo che il caricamento sarà scomparso Quello che dovremo fare sarà Aprire il menu di pausa Andare su online E andare ragazzi su esci da GTA Online A questo punto Il gioco ci farà uscire da GTA Online E ci caricherà la modalità storia Una volta che saremo all'interno della modalità storia Quello che dovremo fare sarà Praticamente usare Franklin Vi consiglio di usare Franklin Perché il glitch funziona maggiormente E come avete visto dal video Dovremo attivare il trucco del ricercato Quindi vi lascerò qui una foto Che nell'altro video mi sono dimenticato Come anche vi lascerò il codice nella descrizione Dovrete appunto attivare una sola volta Il codice per aumentare il livello di sospetto In tal modo che riceveremo una stellina nel gioco E quello che dovremo fare a questo punto Sarà aspettare che i poliziotti arrivano Una volta fatto ciò Che saranno arrivati gli sbirri Quello che dovremo fare sarà praticamente avvicinarci a uno degli sbirri E dovremo fare in modo che appunto il nostro personaggio Metterà le mani al cielo Perché appunto verrà fermato dai poliziotti Una volta che il nostro personaggio avrà messo le mani al cielo Quindi avrà alzato le mani Quello che dovremo fare sarà molto velocemente Premere il menu di pausa Dovremo andare su online Dovremo schiacciare X per entrare nel menu della sezione online Dovremo selezionarci su seleziona personaggio Ma senza cliccare Mi raccomando dovremo solamente posizionarci Una volta che saremo posizionati su seleziona personaggio Quello che dovremo fare su PS4 O comunque anche su Xbox One Dovremo andare nel tasto PS O comunque nel tasto Xbox In questo caso lo spiego solamente per PS4 I passaggi per Xbox One ragazzi sono gli stessi Dovremo andare nelle impostazioni Andare su rete E togliere praticamente la spunta A connetti a internet In tal modo che il box Come vedete Accanto a connetti a internet Non ci sarà nessuna spunta Una volta fatto questo Semplicemente E molto velocemente Ricliccate X per riattivare la connessione a internet Quindi sostanzialmente La staccate Aspettate un secondo La riattaccate molto velocemente Tornate nel gioco Premendo due volte il tasto PS E quello che dovrete fare Sarà con le freccette direzionali Del vostro joystick Come vedete Vi si aprirà un sottomenu segreto Quello che dovrete fare sotto questo Sottomenu segreto Possiamo dire Sarà posizionarci Su seleziona personaggio Quindi premete Praticamente una volta La crocetta in su O la crocetta in giù E dovrete appunto Fare in modo di posizionarvi Sulla spunta Seleziona personaggio Una volta fatto questo Quando saremo selezionati Su seleziona personaggio Dovremo a questo punto Aspettare che nel gioco Ritornerà la connessione Ci vorrà un qualche secondo E adesso Ascoltatemi bene Appena praticamente Vedremo Come state vedendo Che la connessione a PSN E' stata ripristinata E nel menu Comparirà di nuovo Le opzioni Per entrare su GT Online In questo caso Ci interessa solamente L'opzione seleziona personaggio Appena Praticamente Vedremo Che l'opzione Seleziona personaggio Si potrà ricliccare di nuovo Dovremo Molto velocemente E subito dopo Appunto appena vediamo Che possiamo di nuovo Selezionare Il seleziona personaggio Dovremo spammare Quindi premere Due volte Il tasto X Molto molto velocemente Quindi staccate la connessione La riattaccate Molto velocemente Vi selezionate nel menu segreto Su seleziona personaggio Con le freccette E a questo punto Aspettate che la connessione Appunto ritorna nel gioco Appena rivedrete Che la connessione Ritorna nel gioco E il gioco Vi farà selezionare Seleziona personaggio Molto velocemente Appunto spammate Il tasto X Quindi semplicemente Ritorna la connessione Due volte Il tasto X E spammate appunto Su seleziona personaggio Se avete fatto il glitch Correttamente Il gioco vi darà L'opzione Dei servizi Rockstar Che non sono al momento Disponibili Se invece l'avete fatto male O comunque siete stati Troppo lenti Il gioco Come in questo caso Come sarebbe andato Dalla clip Vi porterà nel cielo Inizierà a fare Dei flash neri E dopo qualche secondo Vi darà una schermata Di attenzione Dove vi dice Che la connessione Con i server cloud Di Rockstar È stata ripristinata Quando vi darà Questa schermata Dovrete schiacciare Sul tasto cerchio Per fare No ritorna A GTA 5 E su questa schermata Ragazzi vi do un consiglio Praticamente Quando vedrete Che non avrete Riuscito a fare Il glitch Ma riceverete questa schermata All'80% Riuscirete La seconda volta Quando andrete a schiacciare Sul tasto cerchio A fare il glitch E quindi a beccare La schermata Dei servizi di gioco Rockstar Quindi quello che dovrete fare Su questa schermata Se sarete troppo lenti Come me nel video Dovrete schiacciare No Quindi sul tasto cerchio Su ritorna GTA 5 A questo punto Il gioco Vi caricherà Appunto La modalità storia Quindi se riceverete Questa schermata All'80% Avete una buona probabilità Appunto di azzeccare Il glitch Quindi ritornate appunto Su GTA 5 Spawnerete con Michael E quello che dovrete fare Sarà appunto Di eseguire Il primo step Quindi semplicemente Attivate il trucco Della modalità Del ricercato Vi lascerò appunto Il codice nella descrizione Aspettate che arriverà La polizia E una volta fatto ciò Dovrete andare Praticamente In contro alla polizia E dovrete aspettare Che il vostro personaggio Si farà arrestare Quando vedrete Il vostro personaggio Che inizierà Ad alzare le mani al cielo Qui ragazzi Vi metto la clip rallentata Quindi ascoltatemi bene Ritornate nel menu di pausa Andate su online Andate su seleziona Personaggio E vi posizionate Appunto sulla spunta Seleziona personaggio Una volta che Sarete sulla spunta Seleziona personaggio Dovrete premere Due volte il tasto PS O comunque andare Nel tasto PS Andare su impostazioni Andare su rete E andare a togliere La spunta A connetti a internet Una volta fatto ciò Aspettate mezzo secondo Neanche E riattivate la connessione A questo punto Una volta aver riattivato La connessione Ritornate nel gioco Premendo due volte Il tasto PS O comunque premendo Una volta il tasto PS E poi X Su GTA 5 E nel gioco Riceveremo questa schermata Nel menu della sezione online Anche qui con le freccette Direzionali del nostro joystick Ci posizioniamo Una volta su O una volta giù Dovremo fare in modo Che appunto Sotto questo menu segreto Che avete visto La spunta su selezione personaggio Sarà attiva Quindi a questo punto Semplicemente Aspettate che nel gioco Ritornerà la connessione E quando vi dirà Il gioco Devi accedere a PSN Per entrare in questa schermata Insomma Dopo questa schermata Del Devi accedere al PSN Circa un secondo dopo Ritornerà la connessione Nel gioco E dovrete spammare Quindi premere Due volte Il tasto X Molto velocemente Aspettate che tornerà La connessione Se la connessione Non riuscirà a tornare Semplicemente Ritornate nella rete Togliete la connessione A internet La rimettete Ritornate nel gioco E aspettate questa schermata Come state vedendo La connessione è ritornata Molto velocemente Doppio tasto X Su Appunto La selezione del personaggio E boom Come vedete ragazzi Abbiamo ricevuto La schermata del Al momento I servizi di gioco Rockstar Non sono disponibili Dovremo obbligatoriamente Ricevere questa schermata Per far si Che il glitch Possa funzionare Se riceveremo Altre schermate Come ad esempio La schermata della manutenzione Qualsiasi altra schermata Il glitch ragazzi Non andrà a funzionare E molte volte Se non riuscite A fare questo primo passaggio Resterete bloccati Nelle nuvole Quindi dovrete Automaticamente Chiudere l'applicazione Riavviarla E riprovare appunto A fare questo passaggio Purtroppo come ripeto Dipende dalla vostra connessione Se in quel momento Sta andando male Avrete una buona probabilità Di azzeccare il glitch Se avete una connessione A fibra ottica Dovrete appunto Cercare di stressarla Per appunto Ricevere questa schermata Purtroppo questo È l'unico consiglio Che riesco a darvi Purtroppo I salvataggi Non c'entrano niente L'unica cosa ragazzi Che c'entra È la connessione Più di darvi questo consiglio Non posso fare Perché molti Hanno la schermata Delle politiche Purtroppo ragazzi Se non sarete Abbastanza veloci Purtroppo appunto Non andrete ad eseguire Il primo passaggio Mentre invece Se riuscirete ad avere Questa schermata Allora potrete A questo punto Continuare con il glitch Quindi quello che dovrete fare Avendo questa schermata Sarà semplicemente Andare nel party O comunque insomma Dovrete andare Da un amico Da una community E dovrete praticamente Andare A partecipare Dal vostro amico Che dovrà trovarsi In una missione Un lavoro da titano Questo non l'ho detto Nella intro Ma lo avete detto Nei requisiti Ci servirà un amico Non dico obbligatoriamente Ma comunque Dovremmo chiedere il favore Ad un nostro amico Di avviare La sessione Solo ad invito E di andare In una missione Un lavoro da titano Tanto il nostro amico Ragazzi Ci servirà semplicemente 5-10 minuti Una volta che noi Avremo seguito il glitch Potrà spegnere la console O andare a fare altro Quindi Se non avete amici Potete commentare Qui sotto nei commenti Sicuramente riuscirete A trovare qualcuno Con cui fare questo glitch Mentre invece Se volete fare il glitch Da solo Dovrete andare Appunto A partecipare Da un vostro amico Ovviamente Il vostro amico Non dovrà sapere Che state partecipando Da lui E dovrete sperare Che si trova Non dico In una missione Un lavoro da titano Ma almeno In una sessione Solo ad invito In tal modo Che appunto Riuscirete a ricevere La schermata Della sessione Che è privata Quindi potete farlo Da solo Ma dovrete appunto Avere molta Molta fortuna Di trovare Appunto Il giocatore Nella community O appunto Il giocatore Che è vostro amico Che in quel momento Si trova in una sessione Privata Quindi semplicemente Avendo questa schermata Del momento Dei servizi di gioco Rockstar Non sono disponibili Non dovremo confermarla Ma su questa schermata Dovremmo andare Appunto Nel tasto PS In questo caso Io andrò A partecipare Dal mio amico Quindi andate nel party Con il vostro amico Schiacciate X Sul suo profilo E schiacciate X Su partecipa Alla sessione Una volta Avete schiacciato X Su partecipa Alla sessione Nel gioco Avrete appunto Di nuovo Questa schermata Dei servizi di gioco Rockstar Quello che dovrete fare Sarà aspettare All'incirca 7-8 secondi Su questa schermata Quindi Una volta Che saranno passati Questi 7-8 secondi Dovrete semplicemente Confermare con il tasto X A questo punto Nel gioco Ci saranno Vari caricamenti Varie schermate Varie cose di testo Dovremo praticamente Aspettare Come servendo dal video Che ci sarà Il recupero dettagli Della sessione E dopo qualche secondo Appunto Il gioco ci darà L'avviso Se vogliamo unirci A una diversa sessione Di GTA Online A questo punto Aspettiamo quindi Che il recupero dettagli Andrà finito E appunto Riceveremo La schermata di attenzione Quando riceveremo La prima schermata Di attenzione Su questa schermata Ragazzi Dovremo semplicemente Aspettare circa 5 secondi E una volta fatto ciò Confermare Una volta aver confermato Quello che succederà Sarà che il gioco Ci darà un secondo avviso Possiamo dire Ecco Dove in questo secondo avviso Ci dirà che la sessione È privata Quindi per unirci A questa sessione Dovremo ricevere un invito Su questo secondo messaggio Dovremo praticamente Aspettare altri 3 secondi E una volta che Questi 3 secondi Saranno passati Dovremo confermare Con il tasto X Adesso Una volta aver confermato Il secondo messaggio Come vedete In basso a destra Nel gameplay Il gioco Vi dirà Ti stai unendo A GTA Online Quando praticamente Vedrete Appunto Questa schermata Con scritto Ti stai unendo A GTA Online Appena vedrete Appunto ragazzi Questo testo Dovrete Molto Molto Velocemente Riandare nel party Premendo il tasto PS O comunque Due volte il tasto PS Velocemente La PS4 Vi riporterà nel party O comunque La Xbox One E dovrete a questo punto Riandare a partecipare Dal vostro amico Una volta aver partecipato Dal nostro amico Ritorniamo nel gioco E il gioco Ci darà il messaggio Di attenzione Voglio unirti A una diversa sessione Di GTA Online Dovremo a questo punto Come step finale Aspettare su questo messaggio All'incirca Un 20 secondi Quindi dopo aver fatto Il passaggio Della sessione privata Appena vediamo Appunto La schermata Di Sayunendo A GTA Online Molto velocemente Ritorniamo a partecipare Dal nostro amico Nel party E dovremo aspettare Su questo messaggio Infatti Questo messaggio Andrà via Da solo Dopo una Ventina Barra Trentina Di secondi Quindi aspettate Questi secondi E il messaggio Ragazzi Andrà via Da solo Quindi non toccate Niente Mi raccomando E aspettate Che appunto Il messaggio Scomparirà Da solo A questo punto Una volta che il messaggio Sarà scomparso Da solo Il gioco Inizierà a trovarvi Una nuova sessione Caricherà appunto Una sessione pubblica Quindi una volta Fatto questo Aspettate Che la sessione Venga caricata Quindi io qui ragazzi Vi ho messo la clip Velocizzata Aspettate Semplicemente Come già detto Che la sessione Venga caricata Su questa schermata In questo momento Ci vorranno Due tre minuti Per caricare la sessione Ma vi posso assicurare Che appunto Il gioco vi troverà Una sessione Senza alcun problema A questo punto Semplicemente Come avete visto Nel gameplay Il gioco Ci farà sponare All'interno Di una nuova sessione Di GTA Online E dopo qualche secondo Ci darà di nuovo L'avviso Se vogliamo unirci A una diversa sessione Di GTA Online Su questo avviso Ragazzi Come anche Insomma Se riceverete Più avvisi Dello stesso tipo Dovrete rifiutarli Quindi cancellarli Mi raccomando Con il tasto cerchio O il tasto B A questo punto Una volta aver declinato Quindi rifiutato I messaggi Come vedete Il nostro personaggio Si sposterà Al suo posto Appunto ci sarà Franklin O comunque il personaggio Che abbiamo deciso Di portare su GTA Online Quindi praticamente Ci sarà lo split Split vuol dire Divisione Quindi ci sarà La divisione Dei personaggi E potremo giocare Appunto nei panni Di Franklin Su GTA Online Ciò significa Che abbiamo Esportato correttamente Appunto il nostro personaggio Come anche la modalità storia All'interno di GTA Online Quindi in questo caso Se avremo veicoli moddati All'interno dell'Inpound L'Inpound ragazzi Sarà il deposito Di rimozione forzata Appunto possiamo andare A prendere quei veicoli E giocare Appunto con I veicoli dell'Inpound Che abbiamo portato Dal Save Editor Come anche nel Save Wizard E appunto potremo giocare Con questi veicoli Che abbiamo esportato Dalla storia Su GTA Online E potremo anche depositarli Ma per quel glitch Vi porterò Un altro video Una volta Essere spawnati Quindi con il nostro personaggio Quello che dovremo fare Sarà praticamente Ragazzi andarci a cercare Una pianta del peyote Vi lascerò nella descrizione Un video Come anche un link Di un sito Di GTA Expert Dove appunto Vi mostra tutte le locazioni Del peyote Con delle foto E appunto Dovrete andarvi A trovare Una pianta del peyote Se in questo caso Abbiamo mangiato Tutti i peyote O comunque Conosciamo qualche peyote In una locazione specifica Ma in quel caso Il peyote non c'è Dovrete nella modalità storia Prima di iniziare il glitch Praticamente fare Nuova partita Completare il prologo E la prima missione E appunto fare il glitch Dalla nuova partita Ovviamente salvate Altrimenti perderete i progressi E in quel modo Riuscirete ad avere di nuovo I peyote su GTA Online Con il nostro personaggio Della storia Quindi semplicemente Una volta aver trovato Il nostro peyote Quello che dovremo fare Sarà uno step Molto importante E molto molto velocemente Quindi anche qui ragazzi Ascoltatemi bene Perché appunto Se non vi riuscite a fare Questo step velocemente Il glitch andrà perso Quindi dovrete avvicinarvi Alla pianta del peyote Premere la freccia destra Per appunto Mangiare il peyote E praticamente Appena vedrete La schermata O comunque la cinematica O comunque il filmato Che il personaggio Della storia Sta andando a mangiare Il peyote Quindi si abbasserà Per mangiare il peyote Come starei vedendo In questo momento del video Freccia destra Il personaggio si inchina Per appunto Mangiare il peyote Premete il tasto pausa Molto velocemente Andate su online Andate su Trova nuova sessione Fate questo passaggio Del trova nuova sessione Solamente quando vedrete L'animazione del personaggio Che appunto Si inchinerà Per mangiare il peyote A questo punto Una volta aver fatto Trova nuova sessione Dovremo semplicemente Aspettare che il gioco Appunto ci troverà La nuova sessione Una volta essere esponati All'interno della nuova sessione Come vedete Ci ritroveremo Con una schermata Completamente buggata Quindi la nostra visuale Sarà completamente glitchata Per togliere il glitch Di questa visuale Quello che dovremo fare Sarà molto velocemente Aprire il menu di pausa Andare sulla sezione Online Dovremo andare su Attività Avvia attività Create da rockstar Missioni E dovremo andare ad avviare La missione Un lavoro da titano Se non ce l'avete Va benissimo Un'altra qualsiasi missione Perché appunto avviate Una missione Nel vostro menu di pausa A questo punto Aspettate semplicemente Che il gioco caricherà La missione E quello che dovrete fare Una volta che sarete All'interno della missione Sarà semplicemente Uscire con il tasto cerchio E confermare con il tasto X O comunque Uscire con il tasto B E confermare con il tasto A Se siete su Xbox One Tanto ragazzi I passaggi appunto Sono gli stessi Una volta fatto ciò Come stare vedendo dal video Ci ritroveremo Con il nostro personaggio E in questo momento ragazzi Avremo i soldi frizzati Quindi i soldi concelati In altre parole Potremo comprare Tutto gratis Quindi tutto quello Che ci interessa Quindi a questo punto Potremo fare il nostro Shopping su GTA Online Quindi una volta Essere usciti dall'attività Sbagheremo Quindi appunto Sglicceremo La nostra visuale E potremo a questo punto Andare su internet Ed andare a Appunto comprare Quello che ci interessa Vi do un consiglio Per una scorciatoia Invece che recarvi Nel vostro ufficio CEO Basterà semplicemente Aprire il menu di pausa Andare sulla sezione online Ed andare ragazzi Sulla sezione Criminal Enterprise Starter Pack Quindi entrate nel criminal Con il tasto X O il tasto A Una volta fatto ciò Scorrete in basso Fino a trovare La sezione proprietà Una volta che avete trovato La sezione proprietà Schiacciate su Una delle proprietà Che vi mostrerà Appunto il criminal enterprise E schiacciate sul link Che trovate Alla destra Del gameplay O comunque Alla destra Del sito insomma A questo punto Il gioco vi porterà All'interno di internet E quello che dovrete fare Sarà schiacciare Su questa iconcina Come sarei vedendo dal video A forma di casa Quindi schiacciate Su questa icona E il gioco A questo punto Vi porterà Sul sito internet Del gioco Quindi vi porterà Appunto diciamo Alla schermata principale E a questo punto Basterà andare su Bo Su Warsock Su Legendary Su Suter San Andreas Per appunto Ragazzi andare a comprare I contenuti Che ci interessano Infatti a questo punto Ci basterà Semplicemente Scegliere il veicolo Comunque il contenuto Che ci interessa Confermare Di voler acquistare Appunto il contenuto E come sarei vendendo dal video Ragazzi Boom Soldi non persi E neanche Fra l'altro I soldi Non scaleranno Quindi come sarei vendendo dal video Appunto potremo comprare A questo punto Tutto quello che ci interessa Senza spendere Alcun centesimo Quindi se abbiamo più proprietà Come anche il CEO Magari il CEO È pieno di retro custom O comunque di duplicazioni Potremo sostituirle Con le Scrum Jet O comunque le Deluxe Che per chi non lo sapesse La Deluxe E la Scrum Jet Ragazzi sono i veicoli Più costosi nel gioco Come anche i veicoli Più costosi Per quanto riguarda Il valore di vendita Infatti per la Deluxe Non scontata Attenzione Parliamo di oltre 2,8 milioni Mentre invece Per la Scrum Jet Non scontata Parliamo di 2,7 milioni Se per sbaglio ci capita Come avete visto Nel gameplay Di chiudere il sito internet Basterà riaprire Il menu di pausa Andare su online Andare su criminal enterprise Andare sulla sezione proprietà E schiacciare su una delle proprietà In questo caso Dynasty 8 andrà benissimo Quindi schiacciamo sul link A destra del gameplay E semplicemente Una volta fatto ciò Il gioco ci porterà Appunto all'interno Del sito dove possiamo Comprare il CEO Insomma in altre parole E andiamo a schiacciare Sull'iconcina forma di casa Per andare nella casella principale Quindi una volta che ci troveremo Nel menu principale Appunto di internet Dovremo semplicemente Andare a comprare Quello che ci interessa Una volta che Praticamente avremo finito Il nostro shopping E in questo caso Potremo comprare Il CEO Le proprietà Il casino E insomma Tutto quello che ci interessa Anche se principalmente Il glitch funziona con i veicoli Quindi il mio consiglio È quello di comprare Solamente appunto I veicoli Quello che dovrete fare Una volta fatto ciò Che avrete finito di comprare Tutto gratis Sarà aspettare Che i contenuti Ci arriveranno Infatti dovremo aspettare Che ogni singolo contenuto Ragazzi O comunque ogni singolo acquisto Ci arriverà Quindi vi faccio un esempio Se vi capita Che avete comprato Non lo so 10 scramjet O comunque 10 deluxo All'interno di un appartamento E siete sicuri Che quello è stato Il vostro ultimo acquisto Tra virgolette Dovrete andare nell'appartamento E aspettare Che il gioco Vi farà Il suono Quindi il click Sapete no Quella Quel click Quel suono Che vi fa Ecco Quel suono Lì Dovrete aspettare Che vi arriverà Appunto all'infinito Finché non smetterà Appunto di suonare Questo suono E tutti i veicoli Vi saranno stati consegnati Quindi una volta Che tutti i veicoli Vi saranno stati consegnati Inclusi le oppressori Inclusi i bombushka Nell'hangar Insomma Dovrete a questo punto Proseguire E quindi andare a Salvare i nostri contenuti Come si fa Per salvare i nostri contenuti Semplicemente Dovremmo appunto Uscire dalle proprietà Una volta che Ripeto Tutti i contenuti Ci saranno arrivati Quello che dovremo fare Sarà aprire il menu interazione E cambiare un accessorio O comunque Il completo Al nostro personaggio Quindi aprite il menu interazione Andate sulla sezione stile Andate appunto A cambiare un accessorio O un completo Al vostro personaggio Una volta aver cambiato Il completo Un accessorio Al nostro personaggio Quello che dovremo fare Sarà aspettare Che il gioco In basso a destra Citerà l'icona Del caricamento Arancione Che appunto ci fa capire Che il gioco Come anche i progressi Di GTA Online Sono stati salvati Correttamente Quindi semplicemente Chiudete appunto Il menu interazione Aspettate che L'icona arancione Compaia E una volta fatto ciò Quello che dovremo fare Sarà riaprire Il menu interazione E andare ragazzi Sulla opzione Ucciditi Che l'opzione Appunto È l'ultima opzione Quindi semplicemente Una volta fatto questo Quando ci andremo ad ammazzare Riceveremo una schema Da buggata Come se praticamente Ci fossimo ammazzati All'interno della modalità storia Ciò significa Che il glitch Sta funzionando Una volta che saremo Respawnati A questo punto Dovremo semplicemente Fare un test Con le munizioni Quindi andando nel menu interazione Andando su inventario Andando sulle munizioni E provare a comprare Appunto qualche munizione A questo punto Se i soldi scaleranno Allora vuol dire Che possiamo proseguire Con il glitch E quindi potremo andare A salvare I nostri contenuti Quindi quello che dovremo fare Semplicemente Una volta aver constatato Che appunto Le munizioni scaleranno Dovremo a questo punto Andare in ogni Singola proprietà E andare Praticamente Sul cerchio blu O comunque Sul pallino blu Che praticamente Quella ragazzi Per chi non lo sapesse È la gestione veicoli Quindi andare Sulla gestione veicoli Appunto Camminando sul pallino blu E quello che dovrete fare Sarà appunto Premere freccia destra In questo pallino blu Praticamente E iniziare a scambiare Di posto Appunto i veicoli Che abbiamo Nelle nostre proprietà Che abbiamo comprato Quindi come vedete Nel garage del casino Scambiate la prima Scrumjet con la seconda La terza con la quarta La quinta con la sesta Eccetera 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 Insomma E fate questo procedimento Se in questo caso Avete comprato dei veicoli Con tutte le proprietà Dove appunto Avete comprato I vostri veicoli Se vi capita Che magari I contenuti Vi sono stati consegnati Ma non Ve li mostra Nel gioco Semplicemente Ragazzi tranquilli Basterà scambiarli di posto Quando dovremo appunto Salvare i contenuti E appunto Le macchine Spawneranno Tranquillissimi Come vedete appunto Fare gli stessi procedimenti Con l'arena Con il Bo Con l'hangar Con la clubhouse Mentre invece Se abbiamo comprato Tipo uno yacht Il ceo O comunque Delle proprietà Basterà semplicemente Ragazzi fare una modifica A queste proprietà Per quanto riguarda Lo yacht Cambiare il nome Per quanto riguarda Il ceo Cambiare lo stile Per quanto riguarda Gli appartamenti Cambiare lo stile E così via Per i veicoli Pegasus Purtroppo non so Come funzioni Ma vi posso assicurare Che quelli Purtroppo Non si possono comprare Poi se troverò Diciamo un bypass Un afterpatch Per comprare Anche i veicoli Pegasus Ve lo porterò Sicuramente nel canale Quindi una volta Fatto ciò Che semplicemente Abbiamo finito Di scambiare Di posto Tutti i nostri Contenuti comprati Quello che dovremo fare Sarà nuovamente Aprire il menu Interazione E se vi fa vedere Ragazzi Un menu interazione Come state vedendo Nel video Basterà chiudere Il menu interazione E riaprirlo Molto velocemente Se alla seconda volta Che chiudete Riaprite il menu interazione Vi fa ancora Il menu interazione Buggato Continuate a Chiudere E riaprire il menu interazione Finchè non avete Il menu interazione Pulito Senza appunto L'altra schermata Buggata Una volta fatto ciò Andate sulla sezione Stile E andate a questo punto Nuovamente A cambiare un accessorio O un completo Al vostro personaggio A questo punto Semplicemente Aspettate in basso a destra Che il gioco salverà Con l'icona arancione Appunto in basso a destra E una volta che il gioco Avrà salvato Quello che dovrete fare Sarà tenere premuto Il tasto ps O comunque andare nel tasto ps E fare ragazzi Chiudi applicazione Il procedimento E' uguale Per chi ha un xbox one Quindi a questo punto Dopo che avrete scambiato Tutti i veicoli di posto E vi sarete assicurati Che appunto Tutti i veicoli Sono stati salvati correttamente Andate a questo punto A chiudere l'applicazione Una volta fatto ciò Vi ritroverete Nel menu dell'xbox Dovrete a questo punto Andare a riavviare Appunto l'applicazione Di gta 5 Quando avvieremo L'applicazione di gta 5 Dovremo iniziare A tenere premuto Il tasto L1 O comunque il tasto LB Appena vedremo Praticamente la schermata Delle sirene E continuiamo A tenere premuto Il tasto L1 O comunque il tasto LB Finchè ragazzi Non riceveremo Questa schermata Di calibrazione Dello schermo Mi raccomando Questo è molto importante Altrimenti Se non appunto Schiacciamo Quindi teniamo premuto Il tasto L1 Durante questa fase Del glitch Possiamo dire Non ci farà entrare Su gta online Quindi appunto Dovremo resettare La cache Appunto tenendo premuto Questo tasto A questo punto Semplicemente Confermate la calibrazione Dello schermo Aspettate che il gioco Caricherà la modalità storia E una volta che Il gioco avrà caricato La modalità storia Dovrete semplicemente Entrare su gta online Andando su una sessione Sola d'invito O comunque una sessione Che più vi interessa E una volta fatto ciò Alzare il telefono Chiamare il meccanico E boom ragazzi Come state vedendo Tutti I nostri Contenuti Signori miei Sono stati salvati Alla perfezione Quindi Come avete visto Le scramjet nell'arena Le scramjet Nell'appartamento Nel ceo Eccetera 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 Insomma Quindi A questo punto Il nostro glitch Sarà praticamente finito Infatti A questo punto Se vorremmo fare soldi infiniti Ci basterà entrare Nella proprietà Dove appunto Abbiamo comprato I nostri veicoli E semplicemente Ragazzi Prendere questi veicoli E andarle a vendere Allo Santos Custom Almeno per quanto riguarda La deluxo Perché se come me Avete comprato Le scramjet Nel caso Abbiate la deluxo Scontata Dovrete portare Le scramjet Nell'arena Premere la freccia destra Quindi dovrete avere Il meccanico Delle armi Nell'arena E vendere i veicoli Quindi appunto Una volta arrivati a questa fase Prendiamo i nostri veicoli Che abbiamo comprato E li andiamo a vendere Allo Santos Custom E in questo modo ragazzi Abbiamo eseguito Alla perfezione Come anche Appunto il glitch completo Per entrare su GTA Online Con i personaggi della storia Comprare tutto gratis Salvare i contenuti E fare soldi infiniti Detto questo ragazzi Che dire Nulla Io Spero abbiate apprezzato Se così è stato Mi raccomando Lasciate un big mi piace Di supporto a questo video Video un po' lunghetto Anche se nel mio gruppo Telegram Avevo scritto Che non l'avrei fatto Abbastanza lungo Ma comunque Ho cercato di fare Un tutorial Come anche appunto Una spiegazione Quanto più completa possibile Per appunto Far capire tutti quanti Quindi mi raccomando Con quei commenti Ah parli troppo Ah non si capisce niente Perché se me lo dite adesso Ragazzi veramente Vengo a casa a voi Se vi spacco Non sto scherzando Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Guarda Krix è tutto Vi ricordo come al solito Il vostro mitico pollicione Su bomba Se arriviamo ragazzi A 200 mi piace Vi farò vedere Il video su come portare I veicoli online E salvarli All'interno dei vostri garage Quindi avere Le esclusive Dei vostri veicoli moddati All'interno dei vostri garage Su GTA online Detto questo Nulla Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Vi ricordo come al solito Di seguirmi su Instagram Perché manca poco Ai 2100 follower Quindi mi raccomando ragazzi Vorrei arrivare almeno A 2500 follower Quindi mi raccomando Seguitemi Se ancora non l'avete fatto E soprattutto Entrate nel canale E gruppo Telegram Di cui anche questi Troverete il link Nella descrizione Inoltre Infine Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Attivando la campanellina Che trovate accanto Al numero degli iscritti Qua da Griggs È tutto ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live O un prossimo glitch Bella with you Nobody does it better I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Tryna make it a life It's golden air it taught ya Dreams of my own I've been working from home I have been working from 지금 I'll be making it a life I've been working from I've been working from